ben tornati a un episodio di cap ed ora sono solo non c'è paolo con me perché sta a vedere un film e mi sono sfondato di sushi dal cinese siamo al 60% guys andiamo a sfondare questi boss ora che sono solo chissà se cambiamo le cose Attenzione, posso cambiare l'arma? Nooo, non sto sparando più la barca di merda Ma che cazzo merda? Aia, questo mi sa che è un boss abbastanza famoso e cattivo Perché qualche bastardo degli amici miei Un certo Boris Maria Lautieri Ha messo delle foto, vabbè Oh madonna mia Ok, ci sono? Perché non riesco a... Ok, dovrebbe un attimo farmi la reta con i comandi Ok, ci sono Nooo, non mi direi che devo sparare sto coso di merda Ma che cazzo devo sparare? Qua il perri ci sta, ho capito Forse devo stare sul barile per poter colpire il coso Allora proviamo, eh Allora mi metto qua, no, mi colpisce il barile, niente Devo fare un perri, mi sa No Ma che cazzo Come si fa? Devo sparare il coso? Considerando che ho pure il dito frantumato E va, fa un culo Vabbè, già sto a morire Ah, ecco Era facile Mamma mia, non gli ho fatto un culo di danno È impossibile Cioè devo fare un danno alla botta così, ragazzi Poi, vabbè, non è molto difficile sta fase Ok Sta chiamando la piovra Oh, madonna mia E' un bag che fanno, queste cose niente Ok Attenzione Spariamo così Devo sparare in intermittenza Perché, ok, arriva la piovra Ma lo spacco un attimo No, arriva lo squalo Attenzione, secondo me arriva da Oh, madonna mia Capito, sti infame bastardo Ok Facciamo così ancora Arriva l'altro amico Oddio, questo è sicuro un laser Madonna mia Ah, l'ho ucciso Ok Pesce cane In tutti i sensi Porca troia puttana bastarda E vaffanculo Maledizione Vabbè, mo sicuro moro Sicuro Ok Giusto vedere fin dove sono arrivato Eh, vabbè Fino oltre la prima fase Guarda che figlio di puttana Aspettato per sparare Ma è assurdo sto gioco, eh Ma aspettato che mi avvicinassi per sparare Ma arriva lo squalo Devo far cadere sta merda Qua Donna ci sparo sto squalo In culo proprio Ok, continuiamo a sparare così Attenzione Ok, niente L'unica cosa è che devo spararlo Devo fare attenzione a spararlo Cioè Devo allontanare quando spara i perdoli Da Dal cannone Ok Oh, 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 oh Ah, invidio Che infamone Porca troia puttana Porca troia puttana Eh, no, mo muoio Gesù Cristo E mo come cazzo faccio? Qua è cattiva la fase, eh Ok Ah, forse devo sconfiggere i suoi amici Devo sparare tutti È cattiva sta cosa che Spara anche il fattariello dalla bocca, eh Maia Attenzione Pesce cani Devo gestire tre cose Porca troia puttana Ma com'è possibile? Ok, sto a metà Ma che cazzo è quello che tiene in mano? Sembra il suo pene Madonna mia Ma che cazzo è? Impacchiamo, affittiamo Attenzione No, maia Ah, ma non mi fa danno Bono Eh, però Porco Maledizione Fatto colpire da un attacco di merda La piavola manco fa danno, raga È spettacolare Cioè, veramente Bello proprio Mamma mia, viene qua No, 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 no Ok Attenzione La parte qua Ma inizia a farsi complicata Ah Uffa, ma ha colpito già sta barca di merda Troppe volte Salto Arriva l'amichetto Attenzione, la barca Piove di merda Attenzione Io ho pure colpito la piove Ma ne fotte niente E invece mo me fotte Ok, ho saltato Ragazzi, sono al buio Ok Arriva altro cannone Devo uccidere immediatamente A questo Secondo me serve Power up e nemicibilità Squalo E ora come cazzo faccio? Mamma mia Spettacolo Ok No Mi dovevo saltare Dai, ma che merda Eh, era andato abbastanza bene Non sto sparando più La barca di merda Eh, cazzo Non ci credo, raga La barca Non ha sparato più a cadenza regolare Ha sparato dopo una certa Cioè Tu sei abituato a fare tutta la boss battle Con una certa cadenza di fuoco Della barca di merda Cambia la cadenza di fuoco Ci spara Tipo Due secondi dopo È normale che ti destabilizza Qua usciamo sulla mappa E prendiamoci l'invincibilità Che magari potrebbe essere Molto più utile Perché Non ho usato niente Oh, ok Ok, ragazzi Oh, madonna Santina Cos'è succede? Porca troia No, no, no Questa roba Ma che ragazzi attacchi su? Porca troia Puttana Dove mi colpisco questa merda? Mi sembra normale? Mi sembra normale? Boh A me non sembra normale Cioè Ma che cazzo era St'attacco? Va bene Ok Ok Calmiamoci un attimo Andiamo Ok ragazzi Mo si trasforma Io c'ho l'invincibilità Devo fare attenzione A ogni cosa che fa Qua spara il perdolo qui Poi spara un altro No Incipitano Ma cazzo mi metto Ok Posso sparare Sta merda? Mamma mia Esagerato Ma c'è il cazzo Ok così posso sparare però Ti prego di me Che muori immediatamente Perché Oh Cristino Daveno No, no, no Attenzione del laser Mo lo fa Eccolo E porca Maledizione Questo scuolo bastardo È abbastanza cattivo Quando viene In questa fase qua Perché Ti occupa una bella parte Dello schermo E infatti È un momento in cui Porca puttani No, no Mannaggia Alla madonna Vabbè Hai capito Il mio intento Ecco Mi ha fatto Non andava bene Mi devo far colpire così Ok Lui sparato Mannaggia Al kratto Spara due bolle Poi il raggio laser Ok Quando è che c'è tempo Di fare la super mosse No Ma arriva il coso Ma arriva lo squigno Ora Via 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 Mamma mia Ste bolle hanno una Difficilissime da schivare Attenzione Posso cambiare l'arma No Ho fatto il salto Anziché fare l'ar Sparare Lo sapevo Sono un coglione Arriva la parte di merda Arriva Arriva purtroppo Oh niente Devo schivare Ste pallette Mamma mia Le scalette sono cattivissime Mi cipità Ora Mi cipità ora Forse sono stato troppo Frettoloso Infatti non mi è servito a niente Mi cipità Perché posso colpire tutto Anche così Se metto qua E colpisco me nel bolle Probabilmente si Raffanculo L'hanno calibrato apposto Eh no Perché Perché Ho mai causato il tasto Oh Oddio Assurdo Perché Perché ho messato il salto Il tasto del salto Porca troia Mi stavo dicono il salto Del tasto Del salto Mamma mia Mi confondo con tutto Con le parole Con le cose da dire Cioè è assurdo Come la confusione Delle cose da dire Si confonda anche Con quelle che faccio Nel gioco Cioè Premo un tasto per un altro E dico una cosa per un'altra Ma edizione E certo Perché devi fare attenzione A mille cose diverse E qui Ci sta Barca del cazzo Che sputa i cosi Maledizione Ok Si è incazzata Si è messa In forma merda Attenzione Le bolle Uno Due Devo mettere Assolutamente Invincibilità Che mi sento Proprio debole Mi sento debole Spariamo così Spariamo così Assolutamente Via di qui Facciamo triggerare Sto cosa Ok Allora Bolla uno Edizione Da miseria Bolla tre Attenzione E ora mi colpisce il baule Ragazzi è finita Ok No Ok Continuo a sparare Attenzione Le bolle sono molto veloci E fastidiose Porco C'ero quasi Adizione Sto boss Fa incazzare Fa incazzare Più di tutti Ah Dunque c'è un metodo Molto più veloce Per colpire Sto boss Che è quella Dell'arma rossa Cioè Tanto mi posso attaccare Alla nave Qua sotto Perché non mi fa danno Quindi Buono così Guarda quanto mi sta Cazzo la nave Guarda che espressione Di merda Che c'ha Qua faccia di culo Ok deve colpire così Però poi quando metto Il mitra qui Bisogna allontanare Sì il pisello Ok ragazzi Siamo arrivati Quasi alla terza fase Spallo di merda Non serve niente Accendo di gra E sta cosa così O come no Ah ok Siamo arrivati nella fase Perfetto Ora arriva Sta cosa di merda Aspettiamo Salto qui Attenzione Ste bolle Ora Posso usare Il super attacco Lo faccio così Ok abbassiamoci Andiamo via Andiamo via Non devo confondere Il salto Per altre cose Quindi Oddio Come cazzo ho fatto Per evitare quella Mos Quella cosa Giù Andiamo giù Però sta arrivando Il baule Sta incazzando E niente Mi bisogna fare colpire Per forza Mannaggia La puttana Sub Dai Sono arrivato La prima volta A 4 Questa fase di merda Del boss Niente Qua mi devo abbassare Fortunatamente Il baule è lontano Sto faccio del laser È assurdo Mamma mia Cioè ci vuole Non un'inventiva Mannaggia la puttana Ci vuole Più dell'inventiva Proprio una fantasia Smisurata Arriva la cassa Mi colpisce Non fa niente Invece no Mi colpisce Knockout Porca troia Va a fare un culo Ce l'abbiamo fatta Ragazzi Ce l'abbiamo fatta Non dico greggiamenti Ci abbiamo messo Un totale Di 39 minuti Mamma mia 39 minuti Da registrazione Però ovviamente Io farò Un video Più corto Perfetto Grado C Niente di Speciale Ragazzi Però Questo boss Mi ha tenuto 40 minuti Quindi Bello Bastardo Però L'abbiamo Sconfitto Buono Così Abbiamo il soul contract Buono